Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova challenge di The Flores Lava! Oggi ci servirà la vostra immaginazione, perché il nostro pavimento è diventato completamente della lava, è ricoperto di lava! Io e Ginevra dovremmo affrontare a turno delle prove, esattamente, in questa challenge non possiamo mai toccare il pavimento, possiamo soltanto muoverci su mobili e su queste rocce, sbarracuscini, sbarracuscini! E io sono qua sul divano, comoda comoda, e Tiffany è già in postazione! Sì! Il primo compito che darò a Tiffany deve andare a prendere il mio portafoglio che è finito proprio là! Sei pronta Tiffany a farmi questo bellissimo piacere? No! No? Sì, sono bellissima! Ok, tiro via, taglio tre, tre, due, uno, via! Inizia questa sfida di The Flores Lava! Vai Tiffany! Mi serve proprio il mio bel portafoglio! Io mi lo metto qui! No, no, sì! E poi... Stop! No, 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 no! No, 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 no! Sì! Ah! ahahahah ah vabbè potrò...vabbè vai vai a prendermi il portafoglio lo faccio trovare facili così eh eh brava! correndo! ma hai un'attività qui devi ritardare indietro ed aprilo senza toccare il portafoglio sono brava? credo proprio di...sì eh ehm vai ma più gentilmente no! non so quanto vuole la lava! e sono anche io nella postazione pronta per partire che compito mi dai Tiffany? mi devi andare a prendere la bottiglia d'acqua che è proprio lì ehm però devi fare tutto il tiro fin- da lì allì se ne ha già qualcosa e voi non sapete una cosa? non sapete una cosa? prima Tiffany ha fatto tutto il percorso per prendermi il portafoglio e ha lasciato i cuscini così quindi io dovrò farla ancora più difficile questa sfida ah ce la farò dai parti 3 2 1 via voglio stare in prima fila eh adesso sarà un po' difficile come faccio? come faccio? adesso dovrei ripostarmi con la sedia non sto toccare per terra eh non si muove? è un po' di anni non si muove? come faccio? ah 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 come faccio? ah ah ma adesso ho un'idea su ce l'ho fatta ragazze ho un'idea ragazze e ragazzi ce l'ho anche se la metto un po' la sedia più indietro per prenderla per prenderla non ce la farei mai ti blocco adesso come faccio? ah ah quindi cosci l'idea mmm mi avendo un'idea uccia uccia non puoi passare dal divano si posso passare dal divano posso passare dal divano ho un'idea spostati non puoi no allora è giusto ti faccio cadere? sul tavolo oh mio dio cavolo vedi più qua novolino? dai che ho sete? ma lo hai messo in timer? ah quello come faccio? posso spostarla la sedia secondo voi? nooo come faccio? ce l'ho fatta adesso devi darmelo eh ma così è facile adesso? come faccio di salire? povero tupolino ho venuto un po' sete e anche questa impresa ce l'ho fatta però adesso devo ritornare qua adesso per me è ancora più difficile perché non ho più nessun sasso lì eh mi dispiace comunque tiffani dovrà andare a portarmi quel cappellino il mio cappellino è il mio cappellino lei dovrà portarmi il cappellino vai subito vai subito il mio cappellino è il mio non mi importa vai vai subito vai subito vai subito ma è il cappellino è difficile vai subito che faccio adesso? maledetta ci fa aiuto ce la siamo per fare dai fortuna che non c'è un timer sennò avrei già perso forza voglio il mio cappellino portamelo ma che sei tanto chiaro in terra ma mi sta muovendo almeno ho rischiato attenta per forza io ci sarei andata però è una cuscita ti farei ancora la cuscita perché ribassa tantissimo è ribassante guarda 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 grazie non si può non si può cavolo ehi comunque bravo mi devi portare tu non lo vedi ma lì il koala c'è un koala c'è un piccolo koala koala sono difficilissimo come devo fare ti afflanti vabbè vado allora parto da qui vado qui guarda che ci sono anche i cagnoni ci sono le mie guardie del corpo attaccate attaccate guardi che guardi inutili che ho guarda soprattutto questo qui bianco e nero ehi non vale questo non vale di regoscini no ho mancato io ho il cappello allora siccome lo muovi tanto ok ok ahhh è dove un mio cadere mi stavo per toccare dammi il cappello una frappera guardi mi sono tutti a dormire mmm mi hai venuto un'ideuccia cosa vorrebbe fare? mmm e si può mettere il cuscino qua sopra? no un paio di cuscini qua sopra e poi ok allora faccio proprio così faccio uscire intanto no però ce ne vogliono di più il mio istinto dice che ce ne vogliono di più no e no perchè li lo dico no e va bene no proverò così ah io ma allora a me basterebbe sempre come? che piccola ne deve prendere tre bastano due ah e io voglio guardie attaccatevi alla distanza andate a volare guardie è bello ok vive è inizio sto sudendo per te vai siamo sicura ah non ce la faccio sono questi qua adesso direi andiamo uscina qua ok poi eh che lancio era vediamo vediamo se salgo trucco eh perchè non posso fermare lo sa il trucco la funca ti bastava notare due cuscini eh comunque va all'altro come quello vabbè vai prendimelo cioè lascialo lì ok ok adesso friso adesso però devo riportarglielo ma a me non mi serve lascialo lì dai dai faccio più veloce così da da tieni adesso è andato nella lava è brutta hai perso ha perso è andato nella lava perso ho perso hai perso hai fatto andare nella lava siamo arrivati alla fine di questo video deflosir 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 purtroppo tifo ne ha vinto e io ho perso però mi sono lo stesso divertita ho perso perchè ho buttato il cuore dentro la lava e adesso è tutto sciolto sicuramente però mi sono divertita lo stesso ricordatevi che a questo gioco ci potete giocare con tutti magari con i vostri genitori o con le vostre sorelle e fratelli e iscrivetevi al canale e seguitemi anche su instagram e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e lasciate tantissimi like ciao 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 Grazie.